Grazie Presidente, Presidente von der Leyen. Abbiamo ascoltato con attenzione il suo discorso e cercherò di ricalcare i punti che lei ha sollevato durante le sue parole. Prima di tutto i temi più stringenti, la risposta al Covid e la crisi economica. Ancora io vedo troppa compiacenza nelle parole della Commissione, nelle parole che lei ha usato. Eviterei di definire un successo la situazione in cui siamo oggi. Certo c'è stato un cambio di rotta, lei è venuta qui in questo Parlamento a gennaio riconoscendo degli errori e delle mancanze dell'Unione, ma ancora oggi non è abbastanza e ancora oggi dobbiamo dire grazie agli Stati che hanno messo in campo una macchina per le vaccinazioni che non è certo merito del coordinamento e della Commissione europea. L'aver corretto il tiro non può essere definito come un successo, ma piuttosto qualcosa su cui riflettere in futuro. Sulla crisi economica, ancora oggi lei ha giustamente dato adito a quello che è stato il Next Generation U, ma andiamo a analizzare quello che è. I primi soldi sono arrivati un anno e mezzo dopo la crisi, non è abbastanza, abbiamo perso tempo e ancora oggi siamo molto lontani in termini di posti di lavoro nel recuperare il livello che avevamo pre-pandemia. Un tema nuovo, un tema di oggi, quello della difesa. Lei mi pare abbia lanciato un progetto di cui si discuterà. Io dico che la forza di azione occidentale già esiste, si chiama NATO perché la difesa e la cooperazione militare europea non può prescindere dal Regno Unito e dalla cooperazione con gli Stati Uniti. C'è stato solo un problema che è come sempre un problema di soldi. Noi troppo spesso abbiamo approfittato dell'ombrello dell'alleato americano e gli Stati non hanno fatto il loro dovere nell'investire in difesa. Lei da ex ministro della difesa di un paese importante lo sa molto bene. Sul green, sull'ambiente, un altro punto su cui questa Commissione ha lavorato molto, anche qui basta approcci ideologici. È un tema importante ma va trattato con pragmatismo. La transizione che oggi l'Unione e la Commissione ha costruito è una transizione ecologica per i ricchi. non è una transizione ecologica corretta, non è una transizione ecologica che deve pesare sui cittadini meno abbienti. Ed è inconcepibile che il Vice Presidente Timmermans, numero due di una Commissione che lei stessa nel 2019 ha definito politica, dica che questa non è responsabilità della Commissione ma sono i politici che devono decidere come redistribuire i costi di questa transizione. Chiudo sul tema del futuro, sul tema dell'integrazione. Ne stiamo discutendo, ne discuteremo. Oggi più o meno siamo tutti consapevoli che serve riformare l'Unione con idee diverse. Io mi permetto di dare un suggerimento. Basta procedere con l'integrazione e l'evoluzione europea attraverso Backdoors, forzando i cittadini. I cittadini dobbiamo convincerli di questo progetto. Non si può portare avanti un progetto politico forzando la volontà dei cittadini.